Perchè vorresti tornare quassù? Beh, mi serve il tuo aiuto. Perchè cosa? Questo è il ricettario di Auguste Gusteau, il mio chef preferito. Contiene tante allettanti prelibatezze. Oh, Remy! Non credevo che tu sapessi leggere. Ora però pensiamo a prenderlo. Dopo ti spiego. Papà? Aiuto! Scappiamo! Moriremo tutti! Capaccio! 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 Grazie a tutti. 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 Excusez-moi, sono lo chef Augusto Gusto. Lo so chi sei tu. Silenzio. Guarda qua. Allora, monami, riconosci questo posto? E sono sicuro, ma... avanti. Avanti. E' a Parigi? Nessuno, ma... Nessuno ha detto che sarebbe stato facile. Fantastico. Fantastico. Bene, bene. 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 di avere questa cosa di avere questa cosa delle vertigini. e, grazie a tutti. mangiare. Ehi, grazie a tutti. 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 Oh, sì. Grazie. Fantastico. Oh, sì. Fantastico. Oh, sì. Oh, sì. Oh, sì. Ehi. Oh, sì. Oh, sì. Oh, sì. Ehi, grazie a tutti. Grazie a tutti